Questo è uno degli spazi in allestimento dedicato alle aziende che ruotano attorno al settore del matrimonio. Questo è uno spazio UES. UES è un'area di 1200 metri quadri in cui condivisione, cultura e marketing si fondono per dar vita ad un nuovo concetto di promozione del settore UES. Una delle zone più visitate e provvigili agrigenti dalle future coppie è Vialaldomoro a Favara. Il fermento socio-culturale che la città sta vivendo si sposa bene con il nostro progetto e l'area ospita porti esercenti commerciali che attraggono mediamente 15 coppie al giorno. UES si trova proprio qui, vogliamo il caso che solo tre di queste coppie visitino gli spazi UES. Avremo più di 1200 coppie di futuri sposi in potenziale i clienti pronti ad acquistare prodotti e servizi per il loro evento di nozze. E' come avere una sicura vetrina sul mondo wedding a costi ridotti. UES è la fiera permanente per il settore matrimonio e propone periodiche attività con svariati eventi e installazioni. Attua convenzioni pubblicitarie con l'agenzia di comunicazione dell'UES. Dispone di una sala cinema per proiezione. Offre tutti i servizi necessari allo sviluppo e alla promozione. L'ingresso è libero e gratuito. UES è una grande opportunità per l'economia del settore, poiché diventa un forte strumento attrattivo per tutte le coppie di futuri sposi. L'ingresso è libero e alla promozione.